Oggi Suor Maria Gargani, originaria di Morra de Sanctis, figlia spirituale di Padre Pio, è diventata beata. Il tutto nel Duomo di Napoli è stato il Cardinale Crescenzio Sepe a presentare la richiesta di procedere alla beatificazione per l'Apostola del Sacro Cuore di Gesù durante il rito presieduto dal Delegato Pontificio, il Cardinale Angelo Amato. Cuore, croce, carità ai cardini della vita e dell'azione di Suor Maria Gargani. Emozione in alta Irpinia e da Morra de Sanctis, da dove sono partite circa 200 persone, guidate dal parroco Don Rino Morra, il quale ai nostri microfoni esprime tutta la gioia della sua comunità. La comunità di Morra è grata al Signore e vive giustamente un grande periodo di stupore, di meraviglia, un periodo anche di interrogazioni, in questo tempo particolare essere riscoperti anche per il cammino di una concittadina che ha messo in pratica le virtù bellissime del battesimo, il battesimo che ognuno di noi riceve e quindi vive questi momenti particolari con trepitazione, gioia, interesse, preghiera, si interroga, si interroga a modo anche di riprendere in mano il proprio battesimo alla sequela di Gesù. Abbiamo provveduto insieme con incontri nella nostra comunità parrocchiale, in modo particolare anche con le famiglie, in modo particolare i genitori, perché Maria Gargani ha vissuto la sua esperienza giovanissima di essere insegnante e quale esempio migliore per i genitori di oggi ritornare a prendere in mano la grande missione di essere i primi insegnanti, educatori dei propri figli e quindi poter tramandare loro la bella figura di questa concittadina che ha messo in pratica l'insegnamento possiamo dire quello che un po' tutti riceviamo nelle catechesi familiari, il segno della croce, i primi insegnamenti cristiani, ecco, ma vissuti poi fino a oggi in cui la Chiesa la chiama ad essere beata.